Benvenuti, siamo con Fabio Potestà, direttore della Media Point, che organizza, lo vedete, alle nostre spalle le giornate italiane del calcio estruzzo a Piacenza dall'8 al 10 novembre. Allora, la prima domanda è molto ampia. Di cosa si tratta? Beh, il GIC è la prima manifestazione italiana interamente dedicata al comparto del calcio estruzzo, che riguarda non solo le macchine, le attrezzature e i materiali per le costruzioni di strutture in calcio estruzzo e in calcio estruzzo armato, ma anche tutta la filiera che la segue, quindi manutenzione delle attrezzature, manutenzione delle strutture, pavimentazioni continue in calcio estruzzo, comprese quelle aeroportuali e demolizione o decostruzione delle strutture in calcio estruzzo. Quindi è un evento che si sviluppa in questa seconda edizione che facciamo a Piacenza su tre padiglioni e possiamo dire con una certa soddisfazione che a tre settimane dall'inizio della fiera, numericamente siamo la più grande manifestazione europea dell'anno. A chi vi rivolgete? Qual è il pubblico di riferimento? Dunque, le nostre manifestazioni sono solo e soltanto aperte a un pubblico di operatori qualificati. Addetti ai lavori, diciamo? Addetti rigorosamente ai lavori. Quello che tra l'altro ci chiedono sia gli espositori ma anche le associazioni di categoria che ci sostengono. Abbiamo il supporto di ben 63 associazioni, abbiamo il supporto di ben 4 ministeri, quindi dalla presidenza del Consiglio dei Ministri fino al Ministero dell'Infrastruttura e dei Trasporti, il Ministero del Lavoro, quindi abbiamo veramente un supporto sia a livello nazionale che a livello internazionale. Abbiamo tra l'altro anche prestigiosi sponsorizzazioni o comunque patrocini provenienti dalle principali associazioni europee del settore. Ecco, alcuni minuti solo, prima di venire qua in studio, mi è stata confermata la presenza ad un convegno del Presidente della più importante associazione francese che si occupa di manutenzione delle strutture in calcestruzzo, in modo particolare dei ponti, Monsieur Tredon, il quale verrà proprio a fare un convegno lungo un intervento di 30 minuti per divulgare quello che viene fatto in Francia proprio per la manutenzione soprattutto dei ponti. Ecco, io su questo avrei una domanda da farle che forse si aspettava. Saranno tre giorni di incontri, dibattiti, convegni, farete il punto della situazione? C'è anche una finestra dedicata a Ponte Morandi, a quello che è successo a Genova? Sì, in realtà non poteva mancare un accenno di questo genere. Voglio precisare, la nostra fiera è nata e stata ideata tra la fine del 2014 e l'inizio del 2015. Questo perché attraverso nostre relazioni sia con aziende italiane ed estere, ma soprattutto con le più importanti associazioni internazionali di categoria, abbiamo scoperto che la problematica delle strutture in Calcestruzzo interessa seriamente tutte le nazioni, soprattutto quelle europee oserei dire, e soprattutto quelle europee che sono state belligeranti nel secondo conflitto mondiale, anche perché tutto quello che era costruito in Calcestruzzo aveva anche una rilevanza di carattere strategico, quindi ponti, porti, gallerie, dighe. Tutto questo mi è stato sottolineato in maniera molto semplicistica. Il Calcestruzzo, che tra l'altro è il bene più utilizzato a livello mondiale dopo l'acqua, questo per dare anche un'idea dell'ampiezza dell'utilizzo, è né più né meno come se fosse un dente. Ecco, se tu non vai dal dentista con regolarità, non hai addirittura questa manutenzione, chiamiamo visite programmate, ecco, vai incontro a delle situazioni spiacevoli come purtroppo abbiamo incontrato proprio qui a Genova con il ponte Morandi.